Buonasera, 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 ma continuiamo questo applauso perché ci vuole, adesso vi spiego perché, buonasera, benvenute, benvenuti anche stasera alla pezza, la nostra pezza della sera, anche la mia indegnamente, la mia pezza e perché voglio fare subito il primo complimento a questa band che tutte le sere naturalmente gratifico Carmelo, Flavio, non perché sia un nome al quale tengo, ma Iva Zanichi nel loro complesso, perché vi voglio ringraziare? Perché mi date la possibilità, mi date il destro, come dicono quelli che parlano bene, di dire una cosa, senza vantarci voi stavate eseguendo in maniera magistrale un capolavoro di Claudio Baglioni, strada facendo, beh, strada facendo, la pezza è arrivata, la 56esima puntata, applauso, applauso, bravi, 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 naturalmente senza di voi a casa non avremmo potuto fare tutta questa strada, non avremmo potuto mettere una pezza una dopo l'altra, ma ringraziamo, ringraziamo chi voi non vedete mai, ma che è veramente il cuore, sono le fondamenta della pezza, c'è Maurizio, Leni, Marco, Stefano, Alessandro, Marcello, sicuramente mi scordo qualcuno, le produttrici, i produttori Rai, tutta la squadra, la famiglia Rai della pezza, che mette sempre una pezza, a quest'ora della sera e non solo, e visto che stiamo così salutandoci tutti, però siamo in famiglia, la nostra pezza che tutti amiamo, fatemi salutare, salutiamo naturalmente tutti insieme, c'è il signor Carlo e i suoi meme, e poi aspetta, torpedine, torpedine, poi applauso, scusate, però è la stanchezza, il caldo, e poi da quest'altra parte un parterre d'erroire, Claudio e la signora Anne, applauso, la pezza, la pezza non poteva partire meglio, ma adesso, ma adesso il collegamento che tutta Italia, perdonare, tutto il mondo ci invidia, sentivo di là le voci che dicevano truccatrici, poi detto tra donne, un complimento che vale ancora di più, dice ma lo vogliamo dire quanto è bella la Fanelli, ma diciamolo pure a noi, ma quanto è bella la Fanelli, eccola qua, Manuela Fanelli! Flavio, ciao! Bella e brava, è bella e brava naturalmente! Ciao Flavio, grazie! Io bene, benissimo, tu come stai? Io bene, poi quando sto con te, quando ti vedo, la domanda proprio è, direbbero quelle appunto, dice, nasce spontanea, cosa fai stasera? Canti, reciti, balli, tu che vieni dal teatro, e questo fa sempre la differenza, tu che vieni dal teatro! Flavio, grazie, grazie, io stasera vorrei lasciare la puntata a te, perché mi dai sempre troppo, no, è troppo, troppo spazio, sembra il programma mio, invece è il tuo, non è possibile, e poi io stasera voglio dirtelo davanti a tutti, perché è un film che tutti abbiamo amato, io in maniera particolare, tu sei la protagonista di un film che rimane nella storia del nostro cinema, e cioè, non essere cattivo, applauso, film straordinario! Non protagonista, però, il mio esordio al cinema, venendo dal teatro, come tu ben sai, insomma, dopo tanti anni di teatro, però io volevo dirti che è davvero, per me, gratificante lavorare con te, e te lo dico, a nome mio, a nome di tutti noi, tu metti una pezza, io ne metto un'altra, ognuno mette la propria pezza, e si compone appunto la pezza della sera, la nostra pezza, non la mia pezza, la nostra pezza, soprattutto che è la vostra a casa, senti, signora Fanelli, stasera ce la fai vedere, la vediamo insieme a te, una clip di a piedi scarsi, la vediamo? Ne abbiamo viste troppe, Flavio, l'importa me la chiedi! Stasera, perché lo ricordo, un film premiatissimo al Colleferro Film Festival, ha vinto il Colleferro Film Festival! Selezionato, selezionato, tu, subito esageri! E' un attimo, se è selezionato poi vince, cioè, è automatico, adesso, vabbè, scaramanzia, scaramanzia, dite incrociate, dite incrociate! Quando parli di me, esageri sempre, Flavio, basta, sembra la pezza di Fanelli, possiamo fare una pezza di Insinna stasera? I dirigenti, direi che sicuramente ci seguono tutte le sere, avranno già preso, gli è venuto in mente, gli ha dato il suggerimento per un nuovo programma, la pezza, la pezzissima, la pezzonia, la pezzonia, dei Fanelli, quella di profondità, la pezzonia, ci vediamo dopo! A dopo, a dopo, Flavio, già troppo tempo! A dopo, rimanete con noi, una sorpresa! E adesso, adesso, la mia, straordinaria bene, ma che è anche la vostra, i vazzanicchi, se io vi dico i Beatles, voi che ci regalate stasera? Di sboi, di sboi, di sboi, beh, non prego, è un lato bima! Eh, quanto volevo che questo programma era così! Non vi ringrazieremo mai abbastanza, i vazzanicchi, i vazzanicchi, alla pezza della sera, Anna, Anna, come va? Anna, 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 su, sta, no, dormiva, eh, mamma mia, che c'è adesso da... Niente! Niente? Niente! Fate, ragazzi, suonate qualcosa che... Non dare le spalle! Eh, no, sto chiedendo alla band, suonate un pezzo che fate ai matrimoni, una cosa... Quando, dai, fate qualcosa per gli empi... Per gli empi... 16... 16... 17... Bello! And I love you do, and I love of my love, and so go, and you love me in the sky, and I love you forever, In the time of my life, anytime you go away, every time you clove a field... I love you, and 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 I